Allora ragazzi, noi siamo stati in live fino adesso su Twitch, ok? Abbiamo appena concluso la diretta su Twitch, perché? Perché alle 23 c'erano state promesse delle notizie importanti sulla Juventus, oggi Caressa a Sky, TG24, ha promesso di avere delle notizie importanti lato squadra e lato società per la Juve, dovevano semplicemente fare una sorta di riepilogo, di verifica e poi stasera il club avrebbero dato delle notizie. Un po' puzzava questa cosa, devo dire la verità, dall'inizio, ed è una cosa che ho detto anche all'inizio della live e chi c'era lo sa bene, perché? Perché se hai una notizia, solitamente, non aspetti del tempo in modo che poi gli altri possano andare a rubartela, tra virgolette. Te la verifichi a tempo di record e poi la butti fuori. Il fatto che nel pomeriggio si sia detto sì, c'ho questa notizia qui, la verifico tra qualche ore, poi stasera ve la dico, sembrava molto voler spostare l'attenzione sul live di quel determinato programma, che appunto era gestito da Sky, da Caressa. Era anche molto sospetto che i vari professionisti dell'informazione, come magari Di Marzio, che lavora Sky, o Fabrizio Romano, Romeo Agresti, La Gazzetta, con magari Fabiana Della Valle, o Giovanni Albanese, che lavorano molto spesso su queste notizie qui, non avessero detto nulla, non ci fossero stati post, tweet, annunci, niente, di niente, silenzio totale, silenzio tombale, gli unici che si erano mossi, appunto, erano quelli di Sky, era Caressa. E dato che non c'erano informazioni a riguardo, io mi sono fatto i viaggi più disparati, vi dico la verità, quando mi parli di notizia clamorosa per società, per squadra, a me vengono in mente un paio di cose, che ci possano essere state delle offerte quasi formalizzate per dei calciatori importanti, o che possa essere stato contattato, dei contatti ufficiali con un altro allenatore, io mi ero immaginato dei contatti con Igor Tudor, tra Juventus e Olympique Barsiglia, oppure, magari, degli ingressi in società. E pensando alle figure vicine a Sky, ma ancora più vicine a Caressa, perché comunque non dimentichiamoci mai che alla fine si parla di rapporti interpersonali, mi sono venuti in mente due nomi. Uno, Alessandro Del Piero, che comunque però lavora a Sky, in questo momento lavora per Sky, quindi se fosse una notizia inerente Del Piero sarebbe stata anche strana, no? Anche perché il tempismo è abbastanza sospetto, il giorno prima della penalizzazione, cioè qualcosa non torna, quindi Del Piero si può scartare. Dall'altra parte avevamo pensato a un Massimiliano Allegri che poteva chiamare, appunto, Fabio Caressa, che è un suo amico con il quale ha condiviso comunque anche, ricorderete, quella chiacchierata molto interessante, tra l'altro, secondo me, quando Allegri era ancora fermo l'anno di Pirlo alla Juventus, per dirgli determinate cose. Questa era stata una delle ipotesi che avevamo palesato all'interno dell'attesa in cui Goulam parlava a Sky con Caressa, Bergomi e tutti gli ospiti. Ora, io vi dico la verità, secondo me quest'ipotesi in particolare, e cioè Massimiliano Allegri che alza la cornetta e dice ragazzi, devo dirvi delle cose, devo farvi delle riflessioni, devo farvi delle confessioni, ditele, è l'unico motivo per cui Sky aveva l'esclusiva e Allegri chiama direttamente loro, e Allegri che riporta determinate cose, la scusa del dobbiamo ricostruire la squadra a mercato e qui e là è semplicemente per appunto creare questo hype, hanno l'esclusiva loro, nessun altro, bene, l'esclusiva è loro, gli altri non possono verificarla, possono prendersi il tempo per, e intanto ha la certezza, perché lo dice direttamente Massimiliano Allegri. È già stata fatta questa cosa, non è la prima volta, abbiamo visto Allegri che nel momento, tra l'altro, peggiore della Juventus nella prima parte di stagione, rilascia un'intervista anche abbastanza poco condivisibile a sconcerti, che poi ci ha lasciato qualche settimana dopo, qualche mese dopo, e quindi non era più replicabile, comunque era un giornalista con il quale Allegri aveva un buon rapporto, e c'era stata questa intervista che, secondo me, anche dentro Juventus non avevamo preso nel migliore dei modi, dato appunto il momento. Spesso e volentieri abbiamo sentito Galeone parlare, mentore di Allegri, con il quale ha un buon rapporto, e tante volte c'è stata quasi la sensazione, la certezza non ce l'abbiamo, però la sensazione, io l'ho avuta tante volte, che fosse Galeone, che fosse Allegri a parlare tramite le parole di Galeone. Arrivati a questo punto avrete già capito dove voglio andare a parare, per correttezza vi voglio leggere 5-6 frasi che mi sono trascritto all'interno della chiacchierata di Sky, e hanno detto partiamo soft e poi andiamo su increscendo, e partono dicendo Di Maria via molto probabilmente. E vabbè, è fin qua, però probabilmente, non è ancora certo, hanno delle grosse notizie, hanno fatto 15 ore, hanno detto 15 ore di ricostruzione di lavoro, di verifiche, per dire Di Maria forse va via, molto probabilmente, però forse no. E già questa non è una notizia, non è confermata, è un'ipotesi. Ci era parlato addirittura prima della penalizzazione, ci erano fatti dei discorsi sui punti e anche quella non è una notizia, perché ipotesi bla bla bla, Di Maria forse via, è un'ipotesi. Vlaovic, a prescindere dalla Champions, la Juventus, se dovessero arrivare delle offerte, l'ascolterà. Ma manco questa è una notizia. Questa è una notizia? No, non lo è. Poi arriva Caressa e dice, giunto da Juventus, è oggi ridimensionato. Ieri era certo, oggi non è più certo. E arriva Marchetti e dice, no dai, io non sono proprio come te, io dico che è solo sfumato. E quindi già anche tra di loro, dopo 15 ore di verifica, iniziano ad esserci dei batti vecchi, iniziano ad esserci delle incongruenze, e quindi uno che dice una cosa, uno che dice l'altro, è indiretta, tutto questo è indiretta. Liberarsi da Napoli non era così facile, e dentro la Juventus c'è un po' di discussione. Se si prende un DS esterno e giuntoli, o se no si promuove una figura interna come manna. Ora, io so per certo, perché comunque appunto i giornalisti che secondo me seguono più da vicino la Juventus hanno detto più di una volta che la Juventus non è disposta a promuovere una figura interna questa volta, perché l'ha già fatto nelle ultime due volte in cui ha messo a capo dell'Arasport un dirigente, quindi paratici prima. E che Rubini poi non è stata soddisfatta. Quindi io scarterei a priori l'ipotesi manna, che era un'ipotesi che era già palesata mesi fa e che in questo momento viene scartata. Si è parlato di quasi 100% figura esterna, se non è 199 si era parlato di Massara, si era parlato di Giovanni Rossi, si era parlato di Giuntoli, e Giuntoli sembrava essere il nome giusto. Arriva Caressa e ribadisce questo concetto per quattro volte, le ho contate, l'ha ripetuto quattro volte nell'arco della mezz'ora in cui si è chiacchierato, e ha detto non è vero, possiamo affermarlo al 100%, possiamo garantire che non è vero, Allegri non è vero che non voleva Giuntoli, ma possiamo garantire al 100%, cioè lo puoi garantire in un solo modo, se questo lo puoi garantire al 100%, hai parlato con il diretto interessato, e il diretto interessato che ti ha confermato questa volontà, non è vero che non volevo Giuntoli. Dato che si parla di questa discussione interna alla Juventus, dato che Giuntoli in questo momento è in discussione, prima si diceva, ma liberarsi da Napoli non è facile, invece adesso è in discussione il nome di Giuntoli e Juventus, che però rimane un grande professionista, dicono al club. Però è anche vero che la Juventus ha scelto Giuntoli, virgolettato di caressa, senza che Allegri sapesse nulla, l'unico veto che aveva invece posto Allegri, legato al progetto Ander e Giovanini, perché secondo Allegri, si è lavorato bene con questi progetti, rimane una risorsa importante per il club per i prossimi anni, perché questi giocatori sono importanti, stanno venendo su bene, bla bla bla. Tanto cose completamente scollegate, perché il fatto che arrivi Giuntoli, che cosa c'entra con l'Under 23? Cioè già questo è qualcosa in cui non c'è un nesso logico, non c'è, non esiste. Per quale motivo? A meno che non si parli della figura di Manna, però l'arrivo di Giuntoli, come direttore sportivo della prima squadra, che cosa c'entra con le Giovanili? Cosa c'entra col progetto Under? C'entra poco e nulla. E anche il discorso della società ha scelto Giuntoli senza che Allegri sapesse nulla, e quindi, cioè, Allegri è allenatore, non è un dirigente, non è presidente, non è un azionista, è un dipendente della società. E da che mondo è mondo, l'abbiamo sempre detto, non è l'allenatore che sceglie il DS, è il DS che sceglie l'allenatore. L'abbiamo detto anche ieri, abbiamo fatto un video in cui parlavamo proprio di questo. E ancora, Caressa dice, ma non è che Allegri vuole l'ultima parola sul DS, ma visto il ruolo che ha avuto in stagione, non solo di allenatore, voleva un confronto diretto anche su questa cosa qui. Cioè, il fatto che, Caressa mi dica, sappiamo per certo che, Allegri non è che quello, Allegri non è che vuole questo, però Allegri voleva quello. Io come faccio a pensare qualcosa di diverso da Massimiliano Allegri oggi ha preso in mano la cornetta, ha chiamato un amico e si è confidato esattamente come era venuto con sconcerti? Come faccio io a non pensare questo? Cioè, a me viene da pensare, adesso ci arriviamo, ci arriviamo, continuo dicendo, Giuntoli non è condiviso ai massimi livelli, la perplessità non è solo con Allegri, ma dentro la Juventus. Anche perché, dice Caressa, la Juve non sa da cosa deve ripartire, però gli fanno notare che comunque in ogni caso la Juventus dovrà ripartire. Cioè, non è che se la Juve non sa da cosa ripartire non prende Giuntoli. Questa cosa non... è come quello di prima dei giovanili. Cos'è Cialzicca? Non si incastra. Non si incastra. E ancora concludono il discorso, dopo aver ripetuto mille volte, sì, però non è che Allegri non voleva Giuntoli, sì, però Allegri il progetto Under 23, sì, però la figura interna, come manna, dicono, e poi se l'azienda prende la decisione con la quale non sei d'accordo, poi può succedere che... E ancora una volta? Cioè, a me sembra talmente logico che si vada in quella direzione del sono Massimiliano Allegri, sono in una brutta posizione, sta arrivando Giuntoli, che molto probabilmente vorrà cambiare la guida tecnica della Juve nella prossima stagione. Allegri oggi ha parlato chiaro, ha detto, io al 100% rimango qui, se dipende da me, se poi la società, e da un po' di tempo a questa parte lo sappiamo, Allegri sta aprendo al fatto che alla fine dell'anno poi ci saranno dei confronti, sarà la società... a me qua sembra tutto apparecchiato per un uomo interno alla Juventus, Massimiliano Allegri, che ha capito che il suo futuro non sarà la Juventus, che ha capito che arriverà un direttore sportivo, che alla fine non è che gli piaccia proprio tanto, nonostante questo continuo di ripetere, sì, però Allegri non è che non voleva Giuntoli, e quindi a me viene da pensare che Giuntoli, se non è al 100%, a questo punto è al 99%, io mai come questa sera ho la sensazione che Giuntoli invece possa venire alla Juventus, perché ancora torniamo sul discorso che, sì, abbiamo una notizia incredibile, facciamo le verifiche, 15 ore di verifiche, poi, e se forse arriva dei dubbi su Giuntoli, però non è detto che non ci vada, potrebbe andarci così come no, e prima il problema è liberarsi da Napoli, poi invece sono delle vicissitudini interne alla Juve, perché non sanno se è quello giusto, non si sa da cosa si riparte, cioè, la notizia che è andata oggi non è una notizia, perché è andato quattro notizie, i punti di penalizzazione che è un'ipotesi, Di Maria che potrebbe rinnovare come no che è un'ipotesi, Vlaovic che potrebbe essere ceduto come no che è un'ipotesi, e Giuntoli che potrebbe rinnovare come no, vediamo, è un'ipotesi, 15 ore di verifiche per questo, allora, cinque minuti potevi farlo, c'era bisogno di verificare niente, niente, perché queste notizie se ne hanno solo loro? Quante volte è capitato che una singola notizia fosse arrivata a una sola fonte e basta, se ci sta lavorando da 15 ore, o anche se fossero state 4, 5, 6, cioè, il mondo di oggi si muove molto velocemente, com'è possibile che lo sappiano solo loro? Com'è possibile che al 100% sappiamo che Allegri, non è vero che non voleva Giuntoli, queste cose ragazzi, e poi il fatto che dicano, sì, però poi se l'azienda prende una decisione con la quale non sei d'accordo, sai, alla fine può succedere che sì, a me sembra palese, poi io non ho la certezza, io non lo so com'è andato, non ne ho idea, posso fare solamente una ricostruzione, ma la ricostruzione è molto semplice, Massimiliano Allegri sa che arriverà Giuntoli, Massimiliano Allegri sa che con Giuntoli non sarà lui l'allenatore della Juventus l'anno prossimo, Massimiliano Allegri ha chiamato un amico per fare in modo che si parlasse di questa cosa, si mettesse anche in giro il fatto che ci potessero essere dei dubbi interni alla Juventus, sul nome dell'uomo che deciderà il nuovo progetto sportivo, che a quanto pare non è per la conferma in panchina di Massimiliano Allegri, e ha cercato di creare questo caos in questo momento, aggiungendoci due cassatine prima sui punti di penalizzazione di domani, su Di Maria, su Vlaovic, che sono robe che non stanno in cielo né in terra, per cercare di creare questo teatrino, ma ribadisco, non so se vi siete visti la diretta, se avete sentito la diretta con me, se vi siete visti il club in diretta, non ne ho idea, però si respirava l'imbarazzo, cioè addirittura gente che faceva le domande a un certo punto Bergomi ha chiesto, sì però, chi è che sta avanzando questi dubbi dentro l'uventus su Giuntoli? Chris ha iniziato a fare una super cazzo, e alla fine ha detto sì però dentro l'uventus ci sono dei dubbi con Giuntoli, e non ha risposto, c'era Maracchetti che andava a guardarsi intorno, non si fa a cosa rispondere, tutti gli ospiti continuavano a dire sì però, qua ti mettiamo davvero in discussione Giuntoli, e la risposta era sempre, no 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 no, anche Allegri non avrebbe messo in discussione Giuntoli, non è vero che non lo voleva, ragazzi chiamatemi complottista, non lo so, sarò complottista, va bene facciamo che sono complottista però a me, me sembra andare tutto in un'unica direzione, e non sarebbe nemmeno la prima volta, perché ripeto nel momento più difficile della stagione, proprio quest'anno, tra Monza e Maccabi Haifa, era venuta fuori la stessa cosa, con un'intervista firmata da Massimiliano Allegri, e non era andata molto bene, perché non si era vinta nessuna delle due partite, proprio per discorsi con dei problemi comunicativi, problemi comunicativi come la conferenza stampa di oggi, dove parla di Scesni, e io oggi ho visto un Allegri, un uomo veramente in difficoltà, veramente molto in difficoltà, con tutti i giornalisti che ormai, gli stanno andando in quella direzione, sì ma il futuro, sì ma il futuro, sì ma il futuro, è in mezzo a una marea di giornalisti, che in presa diretta, davanti a lui, con la sua faccia, continuavano a fargli quella domanda, secondo me ha cercato supporto e conforto, all'interno di un programma, che aveva dei giornalisti amici, per permettere poi, di cercare di creare una sorta di, di controparte, di questa marea, cioè io me la immagino proprio una roba di questo tipo, e non sarebbe né la prima né l'ultima volta, che all'interno del calcio, o comunque all'interno della comunicazione, assistiamo a scene di questo tipo, me è sembrato un circo, devo dire la verità, uso una parola forte, un circo, e secondo me il club di Sky, non aveva assolutamente bisogno di una roba del genere, perché si è creato hype per niente, ripeto quattro notizie che sono state date, sono quattro notizie non confermate, sono quattro ipotesi, e alla fine si avvertiva, che è un forte senso di imbarazzo, che secondo me si percepisce anche nelle mie parole, perché sto cercando veramente di essere, il più tranquillo e equilibrato possibile, proprio perché non ho idea di come sia andata davvero, però ho dei forti, fortissimi sospetti, fatemi sapere se siete d'accordo con me oppure no, però secondo me, è andata così.